Cosa ha sentito? Ha sentito come una bomba. E' arrivato anche in vicino con questa macchina, il vetro fino al fondo là. L'esplosione è avvenuta in un appartamento al primo piano di una palazzina a Falzè di Trevignano quando l'inquilina, senza accorgersi che l'ambiente era saturo di gas, ha acceso la luce. Sopravvissuta per miracolo una badante moldava di 52 anni, urstionata al volto e al torace, ora ricoverata all'ospedale di Padova. Ferita ma non in pericolo di vita. E' scoppiato tutto, sembrava una bomba diciamo. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono venuti i vigili, l'ambulanza che ha portato via la signora. La signora era sotto shock, in che condizioni era? L'avete vista? L'abbiamo visto poco diciamo, però è arrivata l'ambulanza. Comunque era cosciente? Sì, era cosciente. La deflagrazione ha divelto tutte le finestre e la porta d'ingresso. Sono esplosi persino i vetri di un'auto parcheggiata di fronte all'appartamento. L'esplosione dalle prime indagini di vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Montebelluna è stata causata da una bombola.